L'isola dei famosi 2018, l'addio di Amauriz Perez, ecco cos'è successo. Le ultimissime di gossip che arrivano dal cancelletto Isola dei famosi 2018 riguardano il concorrente Amauriz Perez, che in queste ore è stato vittima di un malore che l'ha costretto ad abbandonare il cast della trasmissione di Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi. Un addio inatteso che ha lasciato senza parole i fan dell'isola, i quali ovviamente si sono chiesti quali fossero i motivi di questo addio improvviso che ha ovviamente scatenato non poche polemiche. Le novità su Amauriz Perez dopo il malore all'isola dei famosi in un primo momento non si avevano notizie certe sul motivo per il quale Amauriz Perez avesse abbandonato il cast del cancelletto Isola dei famosi, si era parlato di un malore ma non erano stati forniti ulteriori dettagli sull'accaduto e ovviamente in questa osa aveva fatto insospettire i fan. In un primo momento, infatti, la produzione dell'isola aveva fatto sapere che Amauriz Perez è stato vittima di un malore che lo aveva costretto ad abbandonare il cast del reality show Mediaset per poter effettuare degli ulteriori accertamenti medici e capire così quali fossero i motivi di questo addio. Ebbene dopo l'addio di Amauriz dalla spiaggia in molti si sono chiesti quale fosse stato il futuro del concorrente sulla spiaggia dell'isola dei famosi, dato che dal momento in cui è andato via dalla spiaggia di lui non si sono avute più notizie e anche i suoi compagni d'avventura si sono molto preoccupati per quello che era accaduto, desiderosi di sapere la verità su quello che fosse successo. . Ecco la verità sul malore di Amauriz Perez all'isola in un primo momento, infatti, si era temuto che Amauriz Perez potesse abbandonare definitivamente il cast della trasmissione di Alessia Marcuzzi ma per fortuna non è stato così. Questo pomeriggio, infatti, nel corso della puntata del Daytime dell'Isola dei Famosi trasmesso su Canale 5 abbiamo visto che sono arrivate delle buone notizie per tutti i fan di Amauriz Perez. Il naufrago, infatti, dopo aver fatto tutti gli accertamenti medici e è tornato finalmente sull'Isola dei Famosi, possiamo svelarvi, quindi, che non è stato costretto a lasciare la trasmissione così come si era ipotizzato e temuto in queste ore. . Amauriz proseguirà il suo percorso in Honduras fino alla fine di questa edizione, anche se non potrà svolgere le prove settimane e quelle ricompensa, perché i medici gli hanno consigliato il riposo assoluto fino alla fine di questa stagione. Cancelletto Isola dei Famosi. . 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 Grazie a tutti.